Li chiama furbetti l'assessore all'ambiente del comune di Guadotadino Paola Gramaccia e sono quelli che se ne infischiano delle regole della raccolta differenziata mettendo nei cassonetti dell'RSU di tutto anche ciò che potrebbe essere gettato nella plastica, vetro, carta. Ai furbetti, 72 per l'esattezza, la Polizia Municipale negli ultimi due mesi ha elevato multe per errato conferimento dei rifiuti. Tra le infrazioni più riscontrate l'aver aggirato la raccolta differenziata porta a porta, gettando la propria immondizia nei cassonetti di altre zone e frazioni del Gualdese non raggiunte dal servizio di raccolta spinto. Non manca chi abbandona rifiuti, specie ingombranti, fuori dai cassonetti. Da qui l'azione di controllo che in questi mesi i vigili urbani stanno effettuando in accordo con l'ESA, la società che gestisce il servizio di raccolta, che ha portato ad elevare multe da 65 fino a 165 euro. Quanto ai risultati, oggi a Gualdo la differenziata si attesta sui 47%, con un aumento del 15% circa rispetto al 2011. La percentuale sale in maniera decisa nei quartieri di Sarnocco, Biancospino, Cartiere Centro Storico, dove insiste il porta a porta che fa lievitare il dato al 65-70%. Nei traguardi si fermano qui. La prossima iniziativa, spiega l'assessore Paolo Agramaccia, riguarda la raccolta degli oli usati domestici. Inoltre, nei giorni scorsi, è stato effettuato un incontro con i responsabili dei principali supermercati del territorio per coinvolgerli nella necessità di differenziare. Tutti hanno dato la loro disponibilità a collaborare.